bene ragazzi ultimo video dei finance various means e voi vi starete chiedendo perchè proprio l'ultimo beh perchè dopo il quinto questo è il quinto non ne farò più altri ne farò solamente 5 ma non vi preoccupate che poi farò altri video su altre categorie vediamo un po' cosa mi viene in mente vediamo un po' cosa ci sarà di nuovo in off camera vediamo per me che cosa ci sarà di nuovo vediamo un po' vabbè comunque siamo tornati qua sui finance various means 5 oppure come dire finance various means 5 allora iniziamo col primo allora manfu55 lascio anche il link del suo canale in descrizione che ha fatto una cosa fichissima finance various means 2 doco se se vuole demente review e poi qua c'è la testa di emma non so se alcuni lo conoscono questo personaggio di warios clobus no burger ma ne fu 55 prossimo you know what f*** you unjams you're scared finance various mario che se ne va questo è finance various 4 quello fatto da www wario un bravissimo creatore e vedo che mario se ne stia andando che questo è il jumpscare di mario nel quarto nel warios 4 vedo che mario se ne va via dal c'è che entra di nuovo nel televisore e lascia stare il giocatore ma questo è tipo un gif all'indietro e infatti penso che sia un gif all'indietro prossimo finance warios mario lol questo è il braccio di mario un po' allungato e ragazzi ci tenevo tanto a farvi vedere la mia di community ma dove ci sono due meme quest'oggi che li ha fatti finance warios fan 1 2 9 37 e ha fatto due bellissimi meme dentro la mia community che potete vedere anche qua forse vabbè comunque passiamo al primo meme che ha fatto finance warios fan 12 93 7 another one another one you call finance warios bad for its graphics nobody finance warios fans ma fattene affan cuore che ti sparo eh ok questi sono anche assorti i miei miei memes ma sono anche divertenti vai pow finance warios fans when finance warios characters are in final set sonic fnas mmr ok a dirlo un po' così vabbè ma comunque penso che poi i finance warios fan faranno altri meme dentro la mia community chiamata finance warios fans community front page guardate non c'è ancora niente alla mia front page ma comunque all post ci sono i due meme vabbè comunque questa è la mia community e questo era finance warios means 5 io andragamer spero che questo video vi sia piaciuto non preoccupatevi che poi ne farò altri su altre categorie ma penso sempre solo nelle categorie videogioco e penso che poi direi di salutarci e ciao ragazzi grazie per aver veduto wario iscrivetevi al canale mi piace e commento grazie per aver guardato questo video uuuuue grazie per aver